Sono Vito, vivo qui ad Habitat, ma sono essenzialmente una questione di tempo. Cioè il tempo che sentivo che mi sfuggiva, il tempo che sentivo che non era più una cosa mia, il tempo che era diventato denaro. Perché alla fine mi sono ritrovata ad esserne vittima, adesso è un momento.